salve gente benvenuti su nio 2 sulla terza e ultima demo per essere più precisi allora cosa qua la missione crepuscolo ce ne facciamo giuste un paio anche perché il contenuto più impegnativo quello un po più interessante anche quello che troppa meglio nel frattempo vi do un po quelle che sono le mie impressioni i miei pareri su questa demo sulle cose che sono state modificate rispetto alla precedente e quindi sullo stato del gioco come come in procinto di uscire perché comunque nio 2 previsto per il 12 o 13 di marzo siamo al 28 di febbraio manca poco ormai quindi grossi cambiamenti non avverranno sicuramente probabilmente quel poco che cambierà rispetto a questa demo sarà il comparto tecnico e lo spero ovviamente perché soprattutto in modalità cioè gioco sempre in modalità azione perché su sto gioco prediligo il framerate però graficamente veramente veramente messo maluccio cioè siamo ai livelli del primo nio e nio 1 è uscito 3 anni fa 4 anni fa quasi ma 2017 non mi ricordo più se era 2016 2017 vabbè comunque circa tre anni non si vede l'evoluzione grafica cioè e senza contare poi che per l'appunto il framerate non è non è proprio perfetto cioè dovrebbe star fisso a 60 non dovrebbe calare minimamente con una conta poligonale del genere invece c'è ancora problemi sempre comunque sulla playstation 4 normale sulla pro probabilmente è meglio però la pro comunque a 1080 questo qua non è 1080 sarà tipo 800 900 p non lo so nio 1 era era 900 p upscalati una roba di questo genere modalitazione e suppongo che sulla normale anche neo 2 sia una cosa di questo genere ma penso che anche sulla pro comunque queste problematiche ce le abbia la demo poi gioco finito probabilmente no quindi quello sicuramente il primo impatto grafico non è non è stravolgente però compensa il fattore il fattore artistico diciamo lo stile di nio è sempre piaciuto un botto perché uno stile molto contenuto abbastanza opprimente ma al contempo abbastanza evocativo diciamo questi due livelli perché le missioni sono tre ma i livelli veri e propri sono due in quanto una delle tre missioni è semplicemente una boss fight oltretutto riprende una location nota nel primo nio è il castello del ragno dove si combatte il tizio della casa del tè molto probabilmente cosa sarà modo in cui lo si bloccherà o qualcosa di questo genere non lo so sta di fatto che comunque lo stile mi piace parecchio e quindi per me non rappresenta un grosso problema però spero veramente che per per l'uscita il prodotto finito graficamente sia un po meglio di questo perlomeno un po più stabile se poi la conta poligonale resta così fa niente ma almeno la stabilità miglioratela perché è veramente veramente importante su neo 1 l'avevano fatta sta cosa io mi ero lamentato già nella nell'ultima demo di neo 1 del fatto che appunto il framerate era ballerino non teneva nonostante la conta poligonale basso insomma stesso medesimo discorso e poi poi nel prodotto finito il framerate teneva teneva botta quindi su quello non ho assolutamente non ho assolutamente dubbi che che lo sistemeranno però questa è sicuramente una considerazione da fare perché salta all'occhio intanto ho deciso di lasciare questa run perché qui mi è capitata una cosa abbastanza divertente ci sono questi nuovi kodama a cui puoi donare degli oggetti evidentemente se gli doni l'oggetto sbagliato un oggetto che non è di loro gradimento ti possono shottare e la cosa fantastica è che mi ha shottato a 3 metri dallo sblocco della shortcut quindi proprio tip top e dobbiamo rifarci tutta questa sezione però vabbè ci sta che almeno si vede un po più di combattimento allora per quanto riguarda l'arma ho deciso di utilizzare solo esclusamente la switch clave la falce perché l'avevo già usata nella precedente demo ed era un'arma che mi aveva intrigato parecchio perché c'è un moveset molto particolare sfrutta tantissimo gli attacchi in trasformazione diciamo che proprio il flucco di quest'arma sono gli attacchi in trasformazione però nella precedente demo peccava parecchio in quanto oltre a quello non c'avevi niente non c'erano delle skill ulteriori sì vabbè c'avevi l'affondo in estrazione lì ma a parte quello non c'era praticamente nulla quindi era un po' così poi c'aveva dei problemi di tracking e altre cose tutte cose che hanno sistemato tra l'altro sempre per il discorso del feedback perché al termine della precedente demo avevano mollato giù un questionario dove c'erano delle cose che tu potevi dire se andavano bene se non andavano male cosa che ti era piaciuto cosa vorresti vedere migliorato eccetera eccetera e tra queste cose però appunto l'imprecisione della falce e la mancanza di mosse è una cosa che è uscita fuori e l'hanno sistemata in quanto hanno aggiunto parecchie nuove skill quasi tutta in stance alta sfortunatamente però è un'arma così è un'arma che va giocata principalmente in stance alta per fare danni è un'arma molto particolare come ho detto perché è una sorta di versione ancor più complicata dell'odaci perché l'odaci già aveva questa cosa che cambiava stance quando facevi l'impulso qui in questo caso devi proprio trasformare l'arma cambiando stance per concatenare attacchi un po' lunghi mediamente lunghi perché altrimenti quest'arma è molto 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 lenta e possiede veramente poche mosse e quindi va giocata in un modo un po' particolare ci si bisogna abituare non l'ho ancora padroneggiata al meglio però ho idea che quest'arma c'ha del grossissimo potenziale quello che sicuramente traspare un attimino è la questione delle abilità cioè le skill le skill fanno veramente molto molto poco danno adesso non so se sia una cosa intenzionale probabilmente sì però soprattutto la skill in L1 triangolo è molto 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 deludente soprattutto visto che ti tiene fermo lì sul posto non puoi non hai mobilità sei fermo per un bel lasso di tempo e quindi ci vuole una sorta di ricompensa cioè un bilanciamento di queste cose è molto rischiosa come skill quindi dovrebbero baffarle leggermente le L1 triangolo e le L1 quadrato dovrebbero baffarle poi da vedere magari nel gioco finale un'altra cosa poi vabbè ci sono tutti gli attributi che andranno messi sulle armi gli attributi stellina quelli specifici per le skill che probabilmente sistemeranno tutto quanto però dal momento che quelle skill lì non possono essere potenziate nel nuovo skill tree ecco che non lo so mi preoccupa un pochettino però è un'arma molto molto divertente un'altra problematica che ho riscontrato che però a tutti i fatti non si è rivelata essere una problematica ma molto semplicemente il fatto che per l'appunto ti fanno partire letteralmente a livello pezzente e pian pianino devi salire a grado di essere umano normale è il consumo della stamina cioè inizialmente è molto difficile da usare quest'arma perché consuma tantissima stamina soprattutto in stanza alta visto che si concentra maggiormente in stanza alta ecco che sei sempre a corto di stamina senza poi calcolare il regno yokai il regno oscuro dark realm e yokai realm ecco in quelle due istanze lì il tuo consumo la tua rigenerazione della stamina quindi il quantitativo di attacchi che puoi mettere a segno senza ritrovarti senza fiato è notevolmente ridotto intanto se sto coso qua c'ha più poise di un carro armato puttana Eva ecco muori e niente quindi inizialmente è molto punitiva come arma poi adesso che sono arrivato a un livello in cui ho neanche poi di tanto però ho potenziato giusto un po' la stamina per portarla a dei valori accettabili soprattutto ho sbloccato un paio di skill che ti permettono di ottenere un maggior quantitativo di ki se equipaggi quest'arma ecco che le cose migliorano decisamente e comincia a mostrare i denti secondo me è un'arma che ha grossissimo potenziale come ho detto il tracking l'hanno aggiustato le skill ci sono se le fai leggermente un po' più forti secondo me questa arma qua non ha nessun problema poi per quanto riguarda le altre non posso non posso esprimermi cioè le vecchie armi che ritornano da New 1 sono praticamente identiche ci sono solo le accette le accette le sta usando mio amico con cui farò poi una run cop la pubblicherò dopo questa lui le sta usando e anche lì stesso identico discorso stamina e danno soprattutto delle abilità all'inizio bisogna vedere un attimino che si potenzia il PG che cosa succede lì si può vedere se effettivamente l'arma è sbilanciata o meno poi magari sono tutte cose che hanno già previsto per l'uscita del gioco finale lo so vedremo mi danno fastidio questi teschi qua perché ti bloccano sempre le abilità cosa estremamente fastidiosa e quindi niente si trovo che a livello di ottimizzazione rispetto a quello rispetto alla scorsa demo hanno mantenuto le promesse hanno fatto esattamente quello che la cinta aveva chiesto cioè quello che era uscito fuori dal questionario loro lo hanno preso hanno tenuto di conto questa è una cosa che non molti fanno e quindi rispetto in tal senso tanto tanto rispetto quindi niente poi vabbè ci sarebbe il discorso della difficoltà che molti si sono cioè molti è una cosa strana un po' popolarizzante perché ho visto tanti che si sono lamentati del fatto che la precedente demo era troppo difficile e molti invece che dicono ah la demo è troppo facile non era né facile né difficile era nella media c'era a me personalmente aveva dato un po' problemi il boss il boss della missione crepuscolo quello il cazzo di gattoli con la lama sulla coda ecco ma a parte quello l'ho trovato abbastanza bilanciato molto semplicemente perché anche qui in questa demo ti fanno partire come ho detto prima a un livello bassissimo l'equipaggiamento è scarsissimo non hai difesa fai un cazzo di danno non hai stamina cioè sei veramente cappato bassissimo ed è per quello che la sfida sembra veramente veramente allucinante ma ve lo dico una volta che arrivate intorno al livello 25 si normalizza tutto quanto e trovo che ci sia un buon bilanciamento è punitivo ti fanno il culo come il mio 1 però se hai padroneggiato un po' le tue abilità e soprattutto il tempismo dei tuoi attacchi e di quanto puoi usare effettivamente quanto puoi essere aggressivo quanto devi stare sulla difensiva quali mostri devi parare quali mostri devi schivare dove usare e come usare le abilità yokai al meglio secondo me non ci sono non ci sono grosse problematiche quello che spero sicuramente è che nell'endgame il livello di difficoltà non arrivi ai livelli ridicoli in cui era arrivato Nioh 1 perché Nioh 1 soprattutto col terzo DLC via del Nioh abisso e tutto quanto era una questione di o ti one shottano o one shotti ed è una cosa che un po' cioè anche usando build tank c'erano un paio di build che potevi utilizzare dove trivializzavi completamente i danni elementali con le robe lì ma a parte quello con i boss soprattutto era una questione che se ti becca una volta sei morto e quindi dovevi usare tutti quegli escamotage che ti permettevano di one shottare in tutta sicurezza i boss per non metterci più di chissà che cose per fare le cose con una certa tranquillità questo è chiaro perché poi non tutti hanno tempo di stare dalla mattina alla sera davanti a un gioco e fare gli MLG pro gamer di turno ci vuole ci vuole un buon compromesso in tal senso e Nioh questo non lo faceva anche perché c'era questa questione delle armi elementali delle armi delle armi viventi queste armi viventi qua non ci sono più al loro posto ci sono le abilità yokai c'è il contrattacco yokai l'impulso il counter pulse e basta ci sono queste due cose che però ah si la forma yokai sapevo che c'era una terza cosa la forma yokai che non è la stessa cosa come l'arma vivente tanto questo qua ha recuperato la stamina in un nanosecondo mi ha schivato pure l'abilità è una cosa incredibile nemici umanoidi sempre stronzissimi però fortunatamente abbastanza facilmente exploitabili sta di fatto che per quanto riguarda la forma yokai per il momento ci sono tre tipologie di armi è suddiviso in tre in tre tipologie c'è ferale brutale e un'altra ancora che è phantom mi sembra qualcosa di questo genere praticamente cambia lo stile dell'arma col brutale c'hai la mazza col ferale c'hai i coltelli mi sembra e con col phantom c'hai una sorta di glaive gigante una sorta di boomerang una lama circolare onestamente non mi piace un grandk infatti l'ho mollato subito l'ho provato l'ho mollato subito trovo molto più efficace quello brutale perché vabbè a parte per le abilità passive che ti conferisce ma provo che la mazza sia davvero molto molto più efficace perché c'ha l'attacco pesante caricato che è estremamente estremamente potente toglie una sfracca e mezza di chi agli avversari fa anche un buon danno se vecchi nel momento giusto però appunto trovo che questo che questo nuovo sistema funziona alla grande adesso qua nella demo chiaramente ancora una volta sempre il soletto discorso sei in modalità pezzente quindi non hai un non dura un cacchio stabilità la puoi potenziare sicuramente si notano i miglioramenti però vedete non dura un grandk quindi devi farne un utilizzo piuttosto tattico mettiamola così devi utilizzarla nel momento giusto quando il nemico ha finito gli ha esaurito il chi quando il nemico attiva la forma il reame oscuro lì come cazzo non lo so come l'ha tradotto dark real no perché questa è una nuova modalità che ci hanno che ci hanno i boss e non solo i boss ma anche in giro per i livelli si trovano queste zone in cui c'è c'è questa nebbia spessissima in cui l'utilizzo del chi è ridotto però si le abilità si ricaricano leggermente più veloce in base in base alle skill che decidi di applicare al ramo dedicato a questa cosa puoi ottenere un drop rate maggiorato di amrita di oggetti aumentare la fortuna eccetera eccetera e quindi tornando al discorso della forma yokai trovo che sì è vero che sei in modalità pezzente è vero che la puoi usare poco ma spero che sia una cosa che rimane nel senso che anche con amuleti equipaggiamenti set magia omni non lo so che cavolo ci sarà poi spero che non si arriva a un punto in cui vai in giro un quarto d'ora con questa abilità come new 1 soprattutto agli inizi questo principalmente perché con l'aggiunta di queste nuove abilità yokai e dell'impulso il gameplay cambia completamente sembra esserci una nuova strada per questo gioco non si punta più tanto sul danno alla salute ma sul danno al chi perlomeno magari queste sono le prime run poi da vedere magari più avanti dopo succede come in nioh che si va tutto sul danno nudo e crudo e si pensa a shottare i boss in quella maniera lì però per il momento la sinergia che c'è tra l'utilizzo delle abilità l'impulso e la forma yokai è eccezionale perché tu con queste abilità oltre ad ottenere adesso fra un attimo le vediamo vi faccio vedere la lista oltre a queste oltre all'attacco in sé oltre all'attacco vero e proprio tu c'è tutta una serie di abilità passive queste abilità passive si possono potenziare aumentando il livello dell'abilità molto semplicemente infondendo in linee dentro un'altra uguale e oltretutto questo sistema funziona un po' come la finità d'anima sulle armi perché se tu hai un attributo passabile e potenzi al massimo l'efficienza di una di queste abilità potenziandola se poi la infondi su un'altra abilità identica puoi passarti l'attributo quindi i perk casuali non si possono ancora rerollare non so se si potrà nel prodotto finito però c'è questa cosa che fa fa intendere un sistema molto simile a quello delle armi e delle armature però però appunto l'attacco di queste di queste abilità cioè gli effetti di queste abilità non tutte chiaramente ci sono anche quelle stupide ce n'è una ad esempio che ti permette di scorreggiare in faccia i nemici per infliggergli il tamfo e altre stronzate vabbè ci sono le trollate però quelle serie principalmente infliggono un grosso danno di chi agli avversari e come avete visto nella boss fight di prima glielo riducono perennemente gli riducono il quantitativo massimo che ogni volta che fa dentro e fuori da questo reame oscuro ne avrà sempre di meno e sarà sempre più facile mandarlo in stunlock e a quel punto lì tu puoi scatenare la furia della tua abilità della tua forma yokai quindi è quello che le abilità ti permettono di sfuggire dagli attacchi ti permettono di infliggere un sacco di danni sia alla salute che al ki questi li li combini al counter all'impulso perché adesso tutti i nemici anche quelli standard hanno questi attacchi non parabili che vanno per forza i cose counterati col counter tu gli infliggi un quantitativo di danno al ki semplicemente allucinante anche se non fai un counter perfetto quindi tu counteri quegli attacchi utilizzi le abilità e poi quando il tizio non ha più stamina ci butti dentro la forma yokai questo mentre lo picchi con le armi lo stesso tipo vedete che è un gameplay molto molto più dinamico e ve lo dico cambia radicalmente rispetto a new 1 perché new 1 andavi fondamentalmente in giro con due abilità spammavi sempre quelle non facevi altro magari con i revenant ogni tanto buttavi giù la tua paralisi buttavi giù il veleno buttavi giù le trappole terra che sparavano i nemici in aria e poi gli facevi il colpo finale ma oltre a quello non facevi un cazzo qua invece c'è un sistema molto molto più dinamico e veramente molto più divertente pertanto spero veramente che con i potenziamenti disponibili per la forma yokai per le abilità eccetera eccetera si arriva un compromesso in cui tu principalmente punti sulla velocità di recupero della barra amrita della velocità di recupero dell'anima per usare molto più frequentemente queste abilità che però hanno una durata abbastanza contenuta puntare molto sul danno sulla ricarica ma non sulla durata secondo me con un sistema di questo genere posso saltar per delle figate assurde perché oltretutto non abbiamo neanche visto se ci sono dei set d'armatura che però appunto potenziano le abilità yokai cioè nelle abilità stesse o negli spiriti guardiani tra gli attributi specifici c'è questa cosa dell'aumento delle skill skill damage anima absorption assorbimento dell'anima assorbimento amrita potenziamento d'attacco in base alla barra amrita e ballevare ci sono tutti questi per quindi se ci sono anche sulle armature sugli equipaggiamenti ma sai che figata che salta fuori quindi questa è la più grossa aspettativa che ho su sto gioco spero veramente che questo sistema non l'hanno messo giusto così ma lo hanno già sviluppato bene poi sicuramente lo svilupperanno ulteriormente con la dazza del gioco perché chiaramente devono vedere un attimino qual è il meta che si va a creare che cosa la gente usa di più e di conseguenza però trovo che questa combinazione di questi tre elementi dà veramente salsa agli scontri ed è una figata soprattutto il boss che mi avete visto combattere un attimo fa il boss della della missione crepuscolo ma non solo quello anche quello della missione storia perché c'è una missione storia una missione opzionale un boss e la missione crepuscolo anche quello della missione storia cioè se impari a counterarlo bene la boss fight dura un cazzo perché non pigli danno gli fai un botto di danno al ki lo smerdi lo mandi in stunlock gli fai un sacco di danni e ci butti dentro l'abilità eccetera eccetera come ho detto sei sempre comunque in modalità pezzente perché sei in una beta quindi la maggior parte delle abilità più utili soprattutto quelle brutali ne puoi usare una cioè una è consumato la barra dell'anima ho provato con altre quelle ferali tipo il tengo e quelle robe lì riesci già a fare magari due utilizzi riesci a utilizzare due abilità con la barra anima bisogna vedere un attimino se resteranno così se il momentino che abbiamo potenziato l'anima un bel po' così come il ki se le cose cambiano se si potrà fare un utilizzo maggiore la rigenerazione cioè ci sono un sacco di fattori a tenere considerazione però quello che vedo veramente mi piace un sacco pertanto è quello che se non si sono concentrati così tanto sul stravolgere il moveset delle armi e dargli nuove abilità che ci sono per l'amor di dio ma principalmente sono passive proprio per questo motivo perché si sono concentrati molto invece su questa cosa dell'abilità yokai del counter e della forma yokai quindi sotto quell'aspetto lì sono veramente soddisfatto mi sta piacendo un sacco parte all'inizio di questa demo che dici cazzo non sono più capace di giocare a niosh ho giocato per 600 ore su quell'altro e qua mi sembra di non essere più capace giocare cominci a potenziare giusto quelle due o tre cose vedi subito le differenze e dici ah ok ci siamo quindi può può solo migliorare in tal senso ovviamente è un ottimo un ottimo lavoro qua ci facciamo un'altra un'altra volta la stessa missione perché trovo molto facile tritare il boss e da una soddisfazione molto pagante e quindi facciamo e si impara a usare un po' sta cazzo di arma e vediamo un attimino se riusciamo anche a ottenere qualche punticino per sbloccare le abilità perché voglio sbloccare quante più abilità possibili per vedere un attimino come si comportano e quindi decidere bene su che cosa puntare quando ci sarà prodotto finito perché molto probabilmente andrò con questo setup la mia prima run cioè le doppie sono sempre fortissime la katana è sempre fortissima l'odaci è sempre fortissima però queste qua sono quelle nuove io ho una propensione per queste cose ma soprattutto anche perché voglio capire un attimino esattamente che cosa determina l'avanzamento di queste cose perché mi sembra che è un sistema come diceva un mio amico molto simile a quello di skyrim cioè che tu man mano che utilizzi una cosa ottieni efficienza ottieni competenza con questo oggetto e va così cioè per quanto riguarda ninjuts o la magia ne sono completamente convinto perché l'ho visto cioè tu utilizzando gli amuleti utilizzando le cose cioè vedi chiaramente che ti va su ottieni punti facendo quella roba lì per quanto riguarda le armi devo ancora capire bene se è un discorso legato solo ed esclusivamente al fatto che tu utilizzi quest'arma ripetutamente uccidi nemici se è un discorso legato alla competenza se è un discorso legato a quante volte fai salire la familiarità eccetera eccetera anche per per poi sapere più in là come come livellare le armi come sbloccare le skill per le armi nella maniera più più rapida possibile perché sì se la questione dello skill tree perenne è un vantaggio dall'altra parte è uno svantaggio perché le prime volte quando cambi le armi cioè riparti letteralmente da zero perché non hai punti samurai da buttare dentro non so se tu passi dallo switch che lei va alla katana non è che c'hai punti samurai da spostare da uno all'altro riparti proprio da zero e questo potrebbe essere un po' un problemino quindi non lo so sono molto sono molto indeciso su questa cosa mi piace per un discorso avanzato di quando sei nell'endgame avanzato quando hai sbloccato tutto quanto però per le prime volte sarà sicuramente un po' una rottura di palle perché sarai un po' spinto a fare le missioni di basso livello fin tanto che non potenzi le skill quindi dopo potrai tornare a fare quelle di alto livello che hai già sbloccato con le altre armi perché lì che ottieni materiali migliori lì che ottieni più esperienza più ambrita eccetera eccetera ci sarà da farmare parecchio col fatto che adesso appunto ogni abilità yokai e ce ne sono un bordello perché veramente praticamente di ogni yokai di ogni nemico c'è un'abilità yokai associata l'abitante qua lo scheletro forse quegli umanoidi no però tutti tutti gli yokai sì per tutti gli yokai c'è una skill associata quindi se già ne ho uno c'è circa una trentina di mob alla fine sono 30 abilità poi ci sono i boss che anche lì saranno come minimo una ventina se non di più mi aspetto almeno una ventina di boss tra opzionali e della storia principale siamo già sulla cinquantina queste abilità qua bisogna vedere quali sinergizzano meglio con quale con quale con quale spirito guardiano ecco intanto questo qua non gli ho esaurito il chi strano perché normalmente se gli fai lì pondatare lo sbatti per terra lo apri per una finish ecco qua non me l'ha fatta comunque niente dicevo vedere quali abilità vanno con quali spiriti guardiani e su queste abilità quali sono meglio a combinare e soprattutto quali skill cercare in base poi alla skill perché magari ci sono le skill che sono più elementali ci sono le skill più di danno ci sono skill che fanno più danno al chi quindi per ognuna per ogni colore per ogni variante ci sarà da vedere quale appunto quali attributi saranno i migliori è un casino ci sarà un botto di roba da vedere ci sarà un sacco di roba da farmare ci sarà impegnati veramente per un bel po' e mi fa veramente piacere perché sempre un po' per ritornare al discorso di prima c'è il solito farming delle armi delle armature i perk su queste cose qua gli accessori eccetera eccetera però il farming principale sarà però appunto votato a queste abilità yokai quindi ha fatto fatto centro in pieno a parte il fattore tecnico il motore di gioco eccetera eccetera la grafica e vabbè il fatto che che parti come un pezzente che non hai stamina che non fai danno però questo è un discorso legato al livello non ho assolutamente niente di negativo da dire su questa demo mi piace veramente un sacco poi è chiaro sicuramente ci sono tanti che fanno questo discorso perché l'ho vista un po' sta cosa ho visto tanti lamentarsi del fatto che la formula non è cambiata che il gioco è troppo simile che non è neanche un neo 2 ma è un neo 1.5 un neo 2.0 cioè non quando cioè tu hai messo in piedi un'architettura di questo genere un gioco che funziona cosa devi andare a cambiare cosa devi stravolgere devi fare come God of War semplificarlo per i rincoglioniti che così lo possono giocare anche i bambini di 8 anni perché l'ultimo God of War lo possono giocare anche i bambini di 8 anni in modalità difficile perché è una facilità disarmante devi fare una cosa di questo genere assolutamente no se i titoli come i Devil May Cry se i titoli come i Diablo persino i Final Fantasy tutti questi giochi qua sono amati dal pubblico ma questo qua mi fotte sempre sono cattivissimi questi yokai dovresti spaccargli le corne in stanza alta ma è una parola delle volte funziona delle volte non funziona ci ha pensato l'abilità questa qua è l'abilità del boss di questa zona di sto cazzo di cavallo pazzo sto macete gigante che anche lì è strano bisogna vedere contro quali i nemici è più efficaci perché a certi gli fa un danno mostruoso a certi non gli fa un cazzo a certi fa più danno salute a certi fa più danno ki è un quantitativo di variabili allucinanti comunque dicevo il discorso è che con un'architettura di questo genere cioè il primo Nioh è un gioco estremamente complesso estremamente profondo più del 90% dei giochi appartenenti a questo genere sul mercato che cosa devi andare a stravolgere più di tanto devi raffinare la formula e l'ho detto il discorso di prima ho parlato per 10 minuti le abilità assieme al counter pulse assieme alla forma yokai per me danno danno completamente nuova linfa vitale agli scontri è totalmente diverso e senza precludere senza precludere il resto perché poi non è che il danno delle abilità delle armi il set d'armatura i perk tutte queste cose vengono meno no avranno la stessa identica importanza e rilevanza solo che c'è quest'altro strato che si aggiunge che cosa vuoi modificare il sistema di movimento delle nuove movenze perché qual è il vantaggio pratico che c'hai di queste cose molto spesso io non capisco questa cosa quando ci si lamenta del fatto che uno è troppo troppo identico all'altro dov'è il fattore pratico deve esserci un fattore pratico per queste cose in questo caso non c'è Nioh non ha bisogno di modifiche in questo genere per me potevano anche fare un copia e incolla del primo Nioh e mettere semplicemente nuove set d'armatura e nuove skill ed ero già contento perché è un gioco che c'ha già tantissima profondità così quindi per me non regge quel discorso lì poi dopo lì può essere una questione di gusti e su quello non si dibatte perché ognuno c'è i propri gusti ma dire che obiettivamente è un copia e incolla bla 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 no assolutamente no come di qua il discorso del chi fate bene attenzione a chi vedete che quella parte rossa che lampeggia ecco hai visto guarda lì che roba la parte rossa lì che lampeggia è il chi massimo che noi gli abbiamo tolto allora noi con l'impulso col counter pulse avete visto che gli abbiamo tolto sia una parte del chi che è la barra viola sia una parte rossa quindi gli abbiamo ridotto cioè gli abbiamo tolto chi e glielo abbiamo anche dimezzato mentre quando il nemico ha finito il chi i tutti i successivi danni che gli fai gli vanno a diminuire ulteriormente il chi massimo vedete in questo caso c'è il chi dimezzato cioè perché adesso io sto sulla difensiva ma se lo attacco in maniera aggressiva adesso gli faccio un altro counter guarda che roba guarda lì è tutto così è così che è il combat system di sto gioco guarda che roba è stata una combo per buttargli giù nuovamente nuovamente il chi e renderlo totalmente vulnerabile in questo stato qua è incredibilmente vulnerabile e adesso noi abbiamo solo le abilità la forma yokai e le armi ma pensi al momentino che cominci a metterci dentro la paralisi e gli effetti elementali di stato tutte queste cose cioè ne hai per i beati è così che funziona il combat system di sto gioco ed è profondamente diverso da quello del primo neo le basi sono le stesse però è profondamente diverso quindi lo so sono logorroico tutto quello che volete mi ripeto però per me il discorso è identico al primo neo non regge il confronto perché se il primo neo l'hai giocato in maniera un po' approfondita ti rendi conto già dalle prime battute dopo tre ore di gioco perché hai giocato tre ore a sta beta che le cose sono cambiate radicalmente quindi niente ragazzi direi che per quanto riguarda le mie impressioni è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video che farò sempre su questa beta in cui lo giocherò assieme a un mio amico anche lui è appassionatissimo di Nioh che mi ha insegnato tra l'altro anche tante cose sul primo neo perché lui è proprio appassionatissimo dove ci faremo ci faremo sta roba qua in co-op perché in co-op la difficoltà di gioco cambia fa una virata verso l'alto notevole cioè i nemici hanno veramente molta salute fanno molto più danno è interessante vederlo sotto con la veste lì tanto niente fino ad allora ragazzi un salutone ciao ciao ciao